L'Italia dei Valori lancia una proposta di legge e iniziativa popolare per la legittima difesa, per tutelare il domicilio e consentire nel proprio spazio privato di difendere se stessi e i propri cari, cancellando il risarcimento danni che può essere richiesto anche dal malvivente. Senza la legge si corre il rischio che ognuno cerchi di risolvere il problema da solo, dotandosi magari di armi e mezzi impropri. Deve essere lo Stato, deve essere la legge a essere ferma, drastica nei confronti di chi delingue, di chi aggredisce, di chi commette furti e spesso rimane impunito. Questo è lo spirito della norma, stiamo avendo tante tante attenzioni e firme in tutto il paese. Il segretario regionale dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis, lancia l'iniziativa della raccolta firme Negazebo posizionati in giro per l'Abruzzo. Le notizie sono all'ordine del giorno di aggressioni, di furti che terrorizzano il cittadino, che terrorizzano il negoziante mentre svolge la propria attività. Le sollecitazioni vengono soprattutto dalle aree, alcuni quartieri di Pescara, dalla città della costa, Teramana, dalla Marsica. Abbiamo fatto De Gazebo ad Avezzano che stanno scudendo moltissimo successo, l'altro giorno a Roseto. Cioè tutta la regione Abruzzo, ma dalle notizie che io ho, è tutto il paese che chiede più sicurezza. E per noi dell'Italia dei Valori la sicurezza è il problema principale, prioritario per il cittadino. Uno spazio di vendita a chilometro zero in cui trovare i prodotti della terra e della lavorazione gastronomica artigianale. Patrocinato da Slow Food nasce l'Aquila al mercato contadino, con lo scopo di sensibilizzare la qualità del cibo prodotto nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo. La gestione del mercato sarà realizzata da una cooperativa. Nel mercato si troveranno prodotti di qualità e di prossimità, come sottolinea la fiduciaria di Slow Food della condotta dell'Aquila, Elisabetta Mastracci. Il motto di Slow Food è che bisogna mangiare buono, pulito e giusto. E nel giusto c'è il concetto che il lavoro va remunerato. Questi ragazzi che producono, i produttori, sono ragazzi che credono in un'agricoltura pulita. È una produzione come si faceva una volta e sicuramente non c'è lavoro nero all'interno di queste realtà. È una filiera cortissima, come ho detto, è il produttore che vende direttamente. Quindi frutta, verdura, uova, confetture, farine, paste, dolci, c'è di tutto veramente, fagioli, lenticchie, ceci, veramente tantissima roba. Piazza Italia diventa un parco giochi attrezzato per i più piccoli. Nel cuore pulsante della città dell'Aquila, nella zona di Santa Barbara, uno dei primi quartieri ad essere riqualificato dopo il terremoto, lo storico parco del Beato Cesidio è pronto ad ospitare le oregliete dei più piccoli. La riqualificazione di questo parco rientra in un progetto più ampio del Comune dell'Aquila per la valorizzazione delle aree verdi cittadine. Vedete, in quella che è l'idea dei massimi sistemi, il progetto della città, l'alta qualità della vita e così via, accanto a questi sistemi massimi, poi esiste la vita delle persone normali, escludendo magari noi del Comune, che lavorando attualmente 12-14 ore al giorno non abbiamo l'idea di com'è la vita delle persone normali, fatte del tempo libero, le esigenze, c'è i bambini, ad esempio io mi ricordo quando avevo i figli piccoli, quando avevo la possibilità di portarli ai giardinetti e così via. Ed è anche questa la qualità per gli anziani, perché a un minuto si incontra qui, c'è il tavolino, ne metteremo un altro, magari ti fai una partita a carta e così via. Quindi adesso stiamo intervenendo, quest'anno e il prossimo anno in basso ai soldi che riusciremo ad avere e andremo a realizzare queste opere. Questi interventi che i 100 mila del comprensorio, i cittadini, fanno, vengono poi affidati ai cittadini stessi. Allora, quando noi facciamo una cosa per conto dei cittadini, i cittadini poi la devono conservare. Allora, quando noi facciamo una cosa per conto dei cittadini, i cittadini simet stack συenglo adesso. Allora, quando noi facciamo una cosa per conto dei cittadini, i ampio non hanno cer limite. Grazie a tutti.